ebbene si raga, si, io ho i giochi che mi piacciono, mi piace anche riportarli, si non mi interessa, non mi interessa se vanno, se non vanno, non mi interessa perché mi piacciono e mi sto innamorando di questo gioco raga, si, molto aria assistente, sarà che sto riscoprendo la mia vera vocazione? Boh, chissà sarà che questo è il mio lavoro, ma non scherziamo bro dai, però sarà che iniziando il nuovo turno resterai la tua notte ma si dai, iniziamo un nuovo turno, facciamoci una bella run, raga mi piace giocare ai videogiochi senza spoilerarmi nulla ok, per cui questo significa che io non so niente, cioè io le cose che so su questo gioco le imparo giocando l'unica cosa che mi sono, no, non voglio dire spoilerato perché alla fine me l'hanno detta, è del blocco note il blocco note, devo prendere il blocco note perché mi dovrebbe servire a identificare il tipo di demone col quale abbiamo a che fare, i caricamenti ovviamente infiniti perché ci sta, magari lo taglio questo pezzo non lo lascio nel video, oppure lo lascio per farvi soffrire assieme a me, che dite? perché io devo attendere i caricamenti e voi no? dove sta la democrazia in questo? no dai facciamo i seri bro cosa? ah addirittura da qui iniziamo blocca sta musica che non mi piace allora, vestiti? no abbiamo tutto, ok oddio questa che legge ste robe ragazzi ma che cosa leggi? come si prendono gli oggetti? non posso prendere la tizia, la tipa, questa qui che legge morte e decomposizione no, di che è tipo... non è decantare sto scherzando dai non so perché, giocare a giochi horror mi mette... boh, mi mette di buon umore andiamo i seriali, buttiamoli a terra e andiamo via, basta oh, perché non apre la porta? ah, perché devo usare la chiave giustamente giusto, giusto errore mio errore mio ci sta altro caricamento non mi dire attenzione la nostra bellissima Volvo scendi scendi forza la portiera la lasciamo aperta la lasciamo aperta la portiera perché chissà ne frega ragazzi ho un lavoro oggi io scoprirò chi no, non iniziare a laggare per cortesia divina non farlo no dai, iniziamo bene ragazzi, per favore per favore, vi prego prendi questo che mi serve carta e penna ah, ok e come lo uso? perché è scarabocchiato? perché è scarabocchiato? te so no, ragazzi se iniziano a succedere cose abbiamo iniziato ora stiamo calmi tutti quanti, eh stiamo calmi non c'è ancora non c'è nemmeno il corpo qui che cosa deve succedere? prendiamo questo che succede? perché ci sono queste no, raga che hanno fatto, raga? ci sono gli oggetti messi male che succede? no, raga ma è mai possibile che in questo gioco non si capisce nulla? no, ragazzi io non me la sento, raga non me la sento recupera il corpo ok, che abbiamo? abbiamo la bellissima U-Wave sì, iniziamo da lei che mi piace non è, non è ah, ho sbagliato non mi sono preso la la cassettina dei degli attrezzi che cosa fai, bro? che cosa fai? non farlo mai più pezzo di merda no, raga se qua iniziano a bussare iniziano a fare rumori strani io, io ve lo giuro no, mi metto la musica io, eh metto la mia musichetta e lascio andare il gioco a se stesso ma è vero, dai perché non portiamo non portavamo la nostra radiolina da casa mettevamo un po' di musica secondo me era interessante un po' di musichetta figa figaro no no intanto chiudiamo sta porta perché mi mette un'ansia devastante mi sto girando un po' troppo velocemente non va bene non va bene piano allora UAC81 ah già dobbiamo analizzare i segni particolari mamma mia che bella donna ragazzi una donna matura come dico sempre non c'è niente di meglio che una donna matura ovviamente contestualizziamo che cosa si si intende per no 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 non fate versi non fate versi raga io quando sono in ansia divento divento logorro e così parlo tantissimo si per chi non lo sapesse quanti segni ha questa questo è stato il gatto che ti ha ti ha sgrafignato i piedi si al posto qui niente con calma albi con calma qui c'è una specie di cosa è un fungo boh ok ci siamo no 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 there we go ok abbiamo fatto piano piano bro ti giuro piano ansia l'ansia mi sta mangiando quella porta là dietro l'aperta si mi sa di si no raga non mi piace questo gioco è è farlocco si si questo gioco prima ti fa mettere a tuo agio e poi si ti butta la 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 che cazzo è quello la non farlo mai più bro no raga 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 mi un battito ho perso un battito no chi è sto qua io no io non esco più da sto pc non guarderò mai più sopra basta abbiamo finito braccio destro ah no ragazzi raga spalla muoviti facciamo sto coso sbrigati spicciati gamba destra eh occhio potremmo avere un jumpscare attenzione attenzione te ne vuoi te ne vuoi andare iniziamo male malissimo raga iniziamo male iniziamo ecco pure i fulmini i tuoni allora io non so chi voi siate entità ma vengo in pace ok non ho alcun tipo di problema con nessuno sono un tipo abbastanza pacifico d'accordo che cazzo di blocchi c'è il tavolo c'è il tavolo e il tavolo albi calmati l'hai messo ok ci siamo possiamo andare no raga ho sbagliato mi sono dimenticato qua ecco vedi qui si vede che non sono abituato ad usare il blocco note perché ogni volta che c'è una una manifestazione una manifestazione chi usa usa raga hanno riso raga vi prego ditemi che lo sentite anche voi perché io chi è a posto chiudi 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 mio dio chiudi non farlo mai più albi non lo farò mai più raga ok calma bro è facile che cazzo è successo qualcuno è entrato bro qualcuno è entrato di là io non ci andrò mai nella vita perché no mi sto mi sto un attimino terrorizzando calma cuci mandibola e mascia ok fino a qui ci siamo è facile mi serve questo iniettore no no uno va bene che so perché è tutto cambiato qui raga ma non si fanno ste cose ma io stavo bello tranquillo con gli oggetti sistemati ok questo mi potrebbe servire no no non c'è nessuno non c'è nessuno raga nessuna consegna non c'è nessuno mi spiace stia lì messere giuro tiro qualcosa tiro eh ma sta per il protagonista qui non sa fare niente non può combattere questa entità cioè io io boh allora raga mi manca il coso mi manca eh non lo trovo mi manca il coso ecco è questo forse spille di fissaggio si è questo ottimo ok raga con calma con calma lei signora ha un sorriso bellissimo conservato nel corso dei suoi anni per cui complimenti si vede che lei si è lavata i denti con regolarità e questo bisogna bisogna no Rebecca non c'è Rebecca non c'è è andata via Rebecca non è più calmati calma ehi ehi non chiamarmi mai più da domani cambia un nome non sono più Rebecca sono Gina per cui non mi deve chiamare inserisci i copriocchi ecco questi copriocchi erano qui io mi ricordo stavano qui raga io non so che cosa cosa è successo non capisco dove stanno ora i copriocchi vi prego non mi dite che a ogni run cambiano gli oggetti perché io qua divento pazzo cioè non si può fare così raga qui non si vede nulla qui non si vede nulla ah eccoli vedi i caps copriocchi no no chi ha aperto questa porta non farlo mai più non farlo mai più ma non farlo mai più questo vento ragazzi c'è il vento ragazzi il vento è è un brutto un brutto avversario è difficile da contrastare ok mescola il fluido fino a qui ci siamo è facile poi ho già visto le varie bottigliette qui ce ne sta una glutaraldeide vai vedete una dai dai è facile raga questo gioco è facile non c'è questa se li immagina questi rumori capisci è traumatizzata non so da da che cosa non fate perché perché mi incazzo però non fate non mi fate spaventare con questi cosa ho sbagliato ah l'ho già messa la glutaraldeide madò por cacciala no ragazzi no no chi è io voglio sapere chi è chi sei perché mi devi far spaventare poi non c'è nessuno questa cosa non va bene non mi piace non mi piace ok devo buttare sta cosa glutaraldeide getta allora aspetta aspetta che mi sto devo respirare due secondi allora mi serve il metanolo e umettante ok che cos'è questo no di nuovo glutaraldeide non mi serve metanolo metanolo questa cosa mi era già successa grazie a dio sono pronto sono preparato ehi neanche si vede a posto bro non è che è lui raga non è che è lui sto perdendo tempo chissà vabbè proviamo a mettergli non lo fare mai più non lo devi fare mai più no ragazzi no accendi sta luce che cosa fai esci 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 fuori esci non me ne frega non puì raga ma questa che fa what ma what cosa si è spenta la luce e fai what non è la reazione normale però non è la reazione ma allora sei scemo ma siamo scemi raga ma siamo scemi che cos'è che cos'è che cos'è mio dio sembra il regeneradores di resident evil 4 no è la stessa ombra posso zoomare con la visuale no meno male vabbè non lo so se c'è un jumpscare occhio occhio attenzione hop ah luce accesa vedi te l'ho detto è tutto nella nostra fantasy è tutto in our fantasy ragazzi final fantasy umettante sto umettante io non lo trovo dov'è è qua guarda l'unico posto nel quale umettante ottimo cos'è questo invece no 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 basta umettante basta ok abbiamo finito mi sa che manca il coso qua del no 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 raga perché non mi piace a me a me vabbè finché il telefono ci sta no non sono Rebecca hai sbagliato persona hai sbagliato persona io sono Gina te l'ho detto tubo in pvc mi serve le forcipe ce le ho già sì ok ok ce l'abbiamo ce l'abbiamo vai ma cosa ti missi che non è vero raga le for ah cosa manca bro manca il bisturi sì sì è giusto è giusto e dov'è oddio dov'è il bisturi bro oh no è questo no queste sono le forci dove sta il bisturi bro ma sta qua sta qua calma calma sta qui io spero che si sentano questi rumorini raga perché io sto sto morendo letteralmente ok dai basta basta concentrati bro è facile apri metti che è che è non fare la lamentosa non fare la lamentosa che cosa è successo no no raga no no io non ci vado ma io sto bene qui ma io sto benissimo che cosa mi hai triggerato questo mi hanno detto che è uno dei possibili finali se noi avessimo le monete che io non ho ovviamente non fare cose strane ascolta io non ho le monete io ti voglio bene te ne devi andare ok ah vai via non venire mai più va non urlare perché non esisti solo tu nella vita nel mondo ecco basta basta con queste voci basta perché non si non mi fa non mi fa selezionare ah ok dovevo no no allagato 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 stai qui in ginocchio ti puoi mettere in ginocchio abbassati no ragazzi io morirò oggi si fammi controllare quanto stiamo ok stiamo già a 15 minuti facciamo 20 minuti penso che vada bene no non me la faccio la run completa raga così non ci arrivo non ci arrivo a fine run oggi oppure si che ora sono dai potrei potrei anche provarci basta sto casino spegni a posto vedi che bello quando non succede nulla in questo gioco ma perché parlo io ma perché parlo ma perché parlo questa porta aperta da sola da sola da sola ma chi ma chi ma chi sei ma chi sei ma chi ti credi di essere ma io esco da qua ma non me ne frega nulla ma io ti faccio il bel giretto e vediamo se tu donna dai capelli ricci devi devi farmi spaventare ma chi è questa poi piano 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 ma è questa qua raga no non è questa qua è impossibile perché mi fai perché sali sulla sedia e mi fai spaventare allora io non lo so che succede adesso eh rischiamo vai nulla oh bellissimo fantastico accendi a posto uh 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 madò raga no 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 non farlo mai più no ragazzi no io non ci sto io non ci sto devo ancora rimuovere questi tubi togli tutto mi si è seccata la gola ho la gola secca oddio no ehm bla 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 ah si la sacca è facile qui dovrei già avercelo il coso vediamo basta basta se luci perché non ce l'ho che cosa stracazzo ho sentito bro che cosa che cosa che cosa che cosa basta basta con questa chiudi basta basta questi questi bambini sono i ragazzini raga sono i ragazzini si hanno hanno imparato a fare questi scherzetti no ho preso l'iniettore ho sbagliato non è questo che mi serve mi serve il coso il trocar che non trovo non lo troco ragazzi non lo trovo e non so non ho alcuna idea che cos'è questo suono bro sento dei suoni io qua basta vi prego mi fate lavorare io sono ascoltate io voglio vincere il premio a dipendente del mese per cui mi dovete far lavorare ok basta no raga però sta cosa non mi piace io non posso perdere la testa perché non trovo gli oggetti perché gli cambiano posto cioè capisci vabbè forse qui cos'è questo no però questo poi ci serve capisci quindi conviene lasciare aperto questo si può chiudere eccolo qua ma chi te lo fa mettere il trocar lì 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 lo vedi lo vedi lo stronzo vedi vedi questo eh ragazzi questo lo fa ogni mattina eh il suo riscaldamento si fa questa specie di squat sopra questo questo armadietto vedi e poi fa ecco fa questo mio dio chissà perché chissà perché quando c'è lui la palestra è vuota che cosa ti manca ancora te so perché fai perché rompi il cazzo ah la sacca per la flebo l'avevo vista ok eccola qua ora ti prego ti scongiuro muoviti perché qui la situazione sta diventando brutta ragazzi io mi sto che cosa è successo che cosa fai questi rumori brutti quando ho la clipboard in mano allora sacca per flebo ah scusatemi scusatemi questo è quando non giochi hai giochi per un po' e non ti ricordi più niente si è questo aspetta ho sbagliato vai da qua oh brava brava ci siamo ci siamo arrivati vado ragazzi mamma mia che ansia oh basta oh faccio sta run e basta ragazzi non ce la faccio non ce la faccio chissà quando uscirà mortuary assistant 2 eh che che oh non ti bloccare non fare cose strane stai tranquillo scorri e tutto andrà bene there we go ottimo fantasi porcaccia la puttana allora no raga no raga no cos'è il bigfoot scusi oh raga mai successo questo eh ho la madonna ho una pelle d'oca che non si non si può descrivere allora basta adesso c'è stato già il jumpscare ora come regola degli horror dovremmo essere al sicuro per due minuti si senza jumpscare madonna la pelle d'oca mi è arrivata fino a non so fino al culo allora dove ero dove eravamo io non leggo un cazzo qui mescola soluzioni ah già dobbiamo andare in bagno ah ecco perché c'era la tipa tutto calcolato capisci dovevo ehi ehi perché la porta qui è chiusa bro salve ah a posto ottimo meraviglioso fantasmagorico riempi questo qui ok piano girati piano per l'amor di di non so chi sono tentato di fare il giro largo vi dico la verità si facciamolo ragazzi questo gioco devi in questo gioco tu devi fottere il gioco non puoi non puoi fare le cose standard perché il gioco è è è stronzo per vincere devi essere più stronzo del gioco si porcaccia la miseria te l'ho detto che è stronzo il gioco che succede che succede usa la clip ok che vedi ha funzionato vedi sto iniziando a capire come funziona ottimo chiudi chiudi no no le voci della tizia usa la clip usa e ora che devo fare detergente cosa serbatoio ah già lo devo mettere qui ok e ora madonna raga non giocare a questo gioco per due giorni significa dimenticare tutto si a posto posso pulirti la faccia no non posso farlo raga io ho paura raga ho paura che qualcosa qual basta eh basta è stato bello finché scherziamo erediamo va bene però poi basta allora a me non sembra che questo sia il corpo maledetto posseduto per cui sai che facciamo lo riportiamo lo riportiamo che cosa fai che co io dico chi ti credi di è la stai vedendo bro io spero che tu la stia vedendo eh ma tu chi ti credi di essere nello specifico eh fai quello che devi fare fai quello ecco brava sei molto cringe te lo devo dire sei cringissima mio dio no raga non ci arriva a livello di del jumpscare di prima non ci arriva però è efficace è molto efficace devo dire devo ammettere che cazzo fai questa visuale allora questa non è perché non chiude ehi chiudi ok secondo me è questo qua raga perché abbiamo trovato la botola di questo qua che sbatteva per cui proviamo dai proviamo proviamo vediamo se se ci azzecco eh perché vorrei ottenere almeno almeno un finale raga non so quello quello buono quello non lo so non no 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 l'ho visto dopo l'ho visto dopo l'ho visto dopo l'hai visto era lì era lì l'hai visto no ragazzi no io non ce la faccio non ce la voglio fare non ce la voglio fare chiudi tutto chiudi eh tornate domani no no il tuono no silenzio voglio silenzio voglio un silenzio tombale allora Zachary Zachary è un nome perfettamente da da killer o comunque da persona malvagia sì Zachary dove 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 non c'è niente Zachary attenzione è lindo ah 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 quello è aspetta bro aspetta che so si segni mi sa che lui ragazzi sì è lui è lui aspetta fammi si va palesando una forma ma io non so decifrarla per cui fantastico fantastico ma che cosa fate mi fanno le pernacchie mi fanno mi fanno le pernacchie ragazzi sono come i bambini i bambini te l'ho detto ok ok ottimo non abbiamo finito ancora adesso abbiamo finito ok there we go ci deve essere per forza questo dare we go che ci che ci palesa madonna madonna raga no non ce la faccio che ci palesa il fatto che abbiamo finito di prendere i dati ok Zachary 51 spalla sinistra braccio destro imperfezioni braccio sinistro imperfezioni spalla sinistra madonna un sacco di imperfezioni c'è questo qua ma sapete com'è ragazzi siamo tutti imperfetti a modo nostro per cui ci sta che cosa sto sbagliando braccio destro gamba ok gamba mi manca la gamba che cosa cos'è questo rumore cos'è stato sto rumore bro no non farlo mai più qualsiasi cosa sia non farla mai più no la porta ok ok va tutto bene va tutto bene va tutto bene piano piano devo ammettere che questo è un lavoro che tiene il cuore in forma perché pompa tanti chi ha aperto questo no raga qualcuno mi sta mi sta prendendo per il culo si qualcuno ci sta prendendo in giro qualcuno apre e chiude le robe capisci no raga no 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 non ci sto io non ci sto non so voi ma io non ci sto ok reso conto va bene adesso il gioco vorrebbe che io prenda da qua io non lo faccio io faccio il giro largo dobbiamo fregarlo sto gioco ragazzi io prima o poi lo rompo voglio rompere mortuary assistant si e lo romperò ah salve eccoci qua siamo una nuova giornata di lavoro qui da noi da noi da noi così no è chiusa la porta raga è chiusa è un evento scriptato c'è un evento ragazzi attenzione potremmo avere un jumpscare no non c'è più il corpo non c'è più il corpo non c'è più il corpo siamo letteralmente fottuti siamo fregati fregatissimi io io per sicurezza mi andrei qui nel mio angolino a piangere a piangere eh raga andiamo andiamo da liete ah si andiamo a cazzo duro ah che cos'è quello là è l'oblò vai non mi interessa non mi interessa oh oh che cos'era era il tizio era il tizio si era il tizio che camminava no raga era inquitantissima sembrava quella di di pittino no sei tu bro sei tu ti ho sgamato sei tu si si sei tu vabbè l'importante è averlo sgamato eh che ce l'hai già ok non fare la la eh in modo un po' più educato Rebecca dov'è il coso di fissaggio che qua devo girarmi 36.000 volte e mi mi fanno i jumpscare è qua è qua ok spilla cosa no no cosa no cosa no Rebecca cosa no 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 non farlo Rebecca non fate queste cose non provateci a casa non si fanno queste cose attenzione attenzione vediamo se ovviamente non mi trovo un cazzo va bene va bene ok abbastanza disturbante quella scena però oh mio dio ma questo ragà se non è lui eh non è nessun altro madonna però devo dire denti perfetti eh saranno vecchi o saranno finti e questa è la domanda no no chi cazzarola è che no ascolta che cazzo è successo bro no no ma Rebecca cosa ti ho detto io non mi chiamo Rebecca bro io mi chiamo Gina Gino se proprio vuoi ma non sbagliare i miei pronomi ma chi è quello là bro lo vedi devo andarci per forza ma questo ragà ma voi siete siete sadici ci devo andare per forza devo andarci ragà no no ce l'ho dietro vero ce l'ho dietro è dietro di me oddio oh no basta bro basta ecco siamo morti siamo mortissimi accendi sta luce salve no 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 non va bene non va bene siamo morti siamo accendi puoi accendere sta luce 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 del sole no ragà e perché sto gioco mi provoca dipendenza io non lo so questo gioco ha un effetto strano su di me vedi quando lo gioco non voglio più giocare quando invece non lo gioco dico voglio giocare mortuary assistant questi hanno hanno capito come si fanno i giochi l'hanno capito ragà gli sviluppatori si si io voglio mortuary assistant 2 inserisci i copriocchi bene dove erano mi sto girando un po' troppo ma che cosa fai non vo basta oh basta avere questo questo blur non so non so che cos'è questa aberrazione cromatica se vogliamo proprio dirla in modo tecnico ok basta bro basta cos'è abbiamo capito siete cattivi siete brutti però basta ok ovviamente allora mescoliamo il fluido adesso qui dovremmo avere una reazione se è lui perché se mettiamo il reagente lui dovrebbe fare qualcosa se è lui sperando sia lui te prego fa che sia lui perché mi voglio sbrigare no non perché voglio finire il gioco ma perché voglio voglio vedere il finale voglio vedere un finale formaldeide cosa mi manca deide no no ragazzi no quant'era alta questa poi eh scusi due metri e tanta voglia di crescere madonna no ragazzi questa questa entra siamo fregati se questa entra siamo fregati umettante è questo sì mi frega sempre l'umettante non so perché perché è messo forse nella proprio nella zona più distante allora mi servono le cose qua allora prima ok abbiamo le forcipe i tubi i tubi non sono questi vai albi vai vai che ce l'ha vai albi ma che cosa che cazzo fai bro che cosa che cosa ragazzi è l'uomo yogurt è l'uomo yogurt oddio quanto sei disturbante mio dio ragazzi è così che si fanno i giochi horror bravi 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 è così che si fanno tubo in pvc ok possiamo cosa manca ancora cosa mi manca ancora c'ho tutto il tubo il coso e il bisturi ma no mi dimentico sempre il bisturi non so perché ma perché non lo tagliamo a mani nude ovviamente ok forcipe tubo a posto ci siamo mamma mia lavoro egregio vai no no non tranquillizzano chi è no sta zitto proprio non ci provare mai più no non tranquillizzano cioè dipende se trovo il demone lo brucio si se non lo trovo beh beh sarò tranquillo in un altro modo aspetta fammi fammi vedere a quanto stiamo madora che siamo a 30 minuti verrà un video lunghissimo di sto gioco ah mio dio vabbè vediamo vediamo fin quando fin quando reggo e e vediamo no non lo farò mai più non lo farò mai più chiudi ok dovremmo essere al punto di svolta vediamo ma non succede nulla qui ma non è lui però dai a me io io penso sia lui allora facciamo che io io credo che sia lui per cui dammi qua queste striscette mettiamo le strisce troviamo madonna l'hai vista no 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 dove è il segno poi dove è il segno ecco sta cosa che io devo cercare il segno non mi piace mi fa mi fa perdere un sacco di tempo capisci e e poi mi fa anche girare ovunque e sappiamo quello che succede quando mi giro ovunque e non lo trovo raga non trovo sto segno cioè guarda ma raga dov'è il segno raga primo segno non trovato fantastico cioè adesso voi mi dite no boh ci deve essere sempre un segno che non trovo sempre però sempre ok segno number two occhio qui ok bene bene salve tutto bene a posto piano piano oh non brucia non va perché non va perché non va ragazzi no non mi direi che c'ho il gioco il gioco buggato della vita scusi lei non deve fare queste cose l'ufficio è mio no ma perché l'ho fatto ma perché non mi facevo gli affari miei oddio oh però non so che di rilassante sto scherzando accendi la luce immediatamente accendi sta cazzo di luce immediatamente no no ok ok ma lo fa spaventare pure sto coso che brucia dov'è oh questo si vede vedi è un cos'è è una L oddio non so se l'angolazione è giusta in realtà o è una L o è un 7 non lo so vediamo vediamo il segno più vicino ok questo qua è una L quindi ok mettiamo qui bene uno ce l'abbiamo quell'altro non lo troviamo per cui andiamo avanti andiamo avanti mio dio mio dio mio dio bello raga doveva succedere prima o poi questo è uno dei migliori secondo me è molto è disturbante si oh ma ma raga vedete io arrivo sempre a questo punto e non so dove devo andare per trovare gli altri segni cioè nel senso vedi perché non mi si accende vuoi andare fuori ma come fa a accendersi fuori no non si può accendere fuori boh secondo me è un po' buggato non so raga starò sbagliando io qualcosa non ne ho idea no ragazzi no no ok sapete che c'è raga facciamo una cosa bellissima siccome stiamo a 36 minuti e io sto morendo letteralmente mi piacerebbe chiuderlo qua il video si 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 vediamo come va con le visual e poi decidiamo se farci una serie o meno perché vedi sto gioco come mi piace però è così cioè non riesco ancora a capirlo al raga ho visto una cosa no basta 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 usciamo usciamo allora se cercate se cerchi un gioco horror questo è il gioco che fa per te si perché mortuary assistant veramente raga è un gioco che ti mette una cioè l'hai visto no l'avete visto per cui ve lo straconsiglio poi non costa più nulla su steam per cui che dire ragazzi io sono già salvi questo era mortuary assistant che